Ciao a tutti e buona quarantena. Ho pensato a una serie di compiti di attivazione che vi possono essere utili per riflettere in questo periodo e gestire lo stress. Il primo compito è quello di parare a gestire il tempo individuale. Prendetevi un'ora del vostro tempo chiedendo anche aiuto al partner per fare delle cose che riguardano voi e voi soltanto. La possibilità di spezzare questa routine forzata è fondamentale e annotate all'interno del diario quali sono i motivi per i quali prendete il vostro spazio, che so per leggere un libro, per guardare un film o altre cose creative o di riposo che vi vengono in mente e delle quali avete bisogno. La seconda cosa è dialogare con i vostri figli adolescenti, capire quali sono le paure, come stanno vivendo questa quarantena e per quali cose sono preoccupate e come stanno gestendo il loro tempo. Terzo compito dialogate in coppia per conoscervi meglio soprattutto in questo periodo. Quali sono le cose che mi fanno stare bene? Quali sono le cose che mi fanno stare male? Come mi posso reinventare come famiglia? Ad esempio facendo delle cose insieme, cucinare se non abbiamo mai fatto insieme, disegnare o tutto quello che di creativo vi viene in mente. Ultimo compito di attivazione, capire quali sono i litigi futili che sono generati dal momento di convivenza forzata che stiamo vivendo unito allo stress per altro che è altro dal litigio in sé ma che è una condizione di stress interno legata alle paure per il coronavirus e per tutto quello che ne consegue e a notare quali sono questi litigi per avere la possibilità di tenerli a freno. Vi auguro un buon lavoro e spero di vedervi presto.